Per la prima volta 30 associazioni di Gela hanno partecipato assieme ad un bando per migliorare i servizi presenti sul territorio e renderli permanenti. Si tratta di uno dei primi frutti del cantiere Gela. Innovazione, sviluppo e crescita del volontariato è il tema del seminario che ha avuto lo scopo di presentare il bando della Fondazione con il Sud dedicato al volontariato, rivolgendosi alle reti locali che così facendo potranno presentare programmi finalizzati a rafforzare l'impatto della propria azione migliorando ed ampliando l'offerta, la qualità e la diversificazione dei servizi ai cittadini. In un momento di crisi come questo è importante sostenere chi nel territorio è già impegnato a costruire percorsi di innovazione sociale. Cosa significa? Significa che bisogna aiutare le persone, le associazioni che già vivono in un determinato contesto a crescere e a migliorarsi. Noi abbiamo bisogno di un associazionismo sempre più maturo. Questo permetterà di avere dei servizi nel territorio che siano più umani, più vicini alla persona. E allora costruire insieme politiche sociali significa provare a fare rete. Per la prima volta mettiamo insieme trenti organizzazioni di volontariato che parteciperanno insieme a un bando. Pertanto non saranno tra di loro dei concorrenti ma in realtà degli alleati straordinari per migliorare ancora di più l'aspetto sociale di questa città. La mia presenza vuole sostanziarsi nell'attenzione alle associazioni di volontariato, associazioni che spesso risultano carenti sotto profili di conoscenze tecniche contabili e poi hanno oggettive difficoltà nella fase progettuale relativa alla parte economica e nella fase di rendicontazione che darà luogo poi al finanziamento stesso. Le proposte progettuali dovranno prevedere la valorizzazione e qualificazione dei volontari, la sostenibilità dell'intervento, il coinvolgimento di soggetti di natura diversa e l'amplimento della rete esistente ad altre organizzazioni di volontariato. Ed ancora l'innovatività a livello organizzativo e metodologico, il coinvolgimento di categorie tradizionalmente escluse dalle opportunità di partecipazione sociale come immigrati, anziani e disabili. Il tema è l'innovazione applicata ad un bando che crea una grandissima opportunità per le reti locali di volontariato, le reti locali che saranno valorizzate da questo bando di fondazioni con il Sud appunto per potenziare la loro attività nel territorio, valorizzare la loro attività, valorizzare i volontari quindi che possono acquisire nuove competenze e questo grazie ad un bando che appunto presenta carattere di innovazione, richiede proprio un livello di organizzativo e metodologico innovativo particolarmente forte. In questo ShipLab cerca di dare il proprio apporto alla casa del volontariato e alle reti di volontariato che sono presenti qui.